...nazionale in esclusiva per tutto il sud Italia, per tutta l'Italia, del Modiva Corona, il contest promosso dalla Corona Extra che permetterà ad un giovane DJ di vincere un contratto di un anno con il Ministry of Sound di Londra. Allora, abbiamo presentato il primo che si è esibito, DJ Sacco, adesso andiamo alla seconda esibizione che durerà mezz'ora anche questa e poi cominceremo la serata, il mercoledì privilege, il mercoledì del Modà. Da questo momento in console DJ DJ! Un applauso insieme! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!